Giovedì 29 giugno ci troviamo a Verona per un nuovo workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editore. Il titolo della giornata è il futuro dell'edilizia. Progettare e riqualificare l'edificio in piante in chiave sostenibile. 200 progettisti hanno partecipato a questa giornata di formazione, tante aziende che hanno potuto raccontare le novità presenti oggi sul mercato e allora vediamo il servizio che abbiamo realizzato. Questo è il secondo anno che partecipiamo all'evento di Verona. Già lo scorso anno c'è stato molto interesse, abbiamo riscontrato molto interesse anche quest'anno. Nel corso di questi 12 mesi l'interesse che abbiamo percepito durante il convegno che abbiamo svolto qui a Verona si è anche tramutato in lavori poi effettivamente svolti, tra i quali la nuova piazza che è stata realizzata proprio qui in provincia di Verona a Tregnago nel quale è stato utilizzato appunto Recycle che come sempre è un po' il nostro prodotto di punta su quale ci soffermiamo di più e vediamo che fortunatamente viene recepito sia proprio come pavimento ma anche come pacchetto, come soluzione per andare a risolvere tutta la serie di problematiche legate ai problemi idraulici, alle continue acquazioni, alle continue bombe d'acqua, ai continui problemi legati comunque alle precipitazioni che sono sempre più brevi ma sempre di maggiore intensità e anche qui appunto oggi a Verona abbiamo avuto molte richieste proprio riguardo a questa tematica e appunto al produttore Cycle.